Ha avuto paura ieri? Oh sì, io ho portato a protocicolo perché un po' di rispettura, perché è venuto da noi. Fuoco, fumo, danni, ma soprattutto tanta paura. Erano le 12 quando a Cartegliano, in una palazzina di Vialdomoro, le fiamme hanno avvolto e distrutto un appartamento al secondo piano. Prima il rogo e poi le urla. Un incendio divampato in pochi secondi, probabilmente a causa di un cortocircuito scatenato dalla presa del televisore. Sindaco, tanta tanta paura ieri a Cartegliano. Sì, non nego che ho avuto tanta tanta paura. Nella sfortuna fortunatamente è successo di giorno, perché se succedeva di notte non so cosa sarebbe successo e cosa commentavamo oggi. Vigili del fuoco di Bassano del Grappa e Vicenza, Carabinieri e Suem 118, una grande squadra lavoro per salvare la vita dei residenti, intrappolati dalle fiamme e dal fumo. Saranno 15 le persone intossicate e trasportate al pronto soccorso del San Bassiano. 13 cittadini e due carabinieri, che ringrazio questi carabinieri per quello che hanno fatto. Ma non solo i carabinieri, devo ringraziare anche gli operatori sanitari e i vigili del fuoco, perché hanno gestito la situazione in una maniera impeccabile. E grazie a loro oggi ci troviamo qua a commentare un brutto fatto, ma non una tragedia. Una tragedia sfiorata, grande la paura, ma grande anche la risposta dell'intera comunità. Gli inquilini dell'appartamento che è andato a fuoco, dove hanno trovato riparo questa notte? Grazie a Ivana Cappeller che ha messo a disposizione un suo appartamento. Devo dire che tutti i cittadini di Cartigliano si sono dimostrati molto disponibili in questa situazione. Basti pensare al Parco Zocca Pellerca a mezzogiorno, ha dato da mangiare a tutti i ragazzi e gli adulti che erano fuori casa. E in più la Proloco e i ragazzi del calcio che ieri sera hanno fatto la cena proprio per loro.